Grazie Presidente. Il decreto legge che discutiamo oggi, come è stato già sottolineato dai miei colleghi dell'opposizione, ha diversi problemi. Io però mi concentro su un problema particolare, che però forse è l'elemento più caratterizzante di questo decreto legge. Parlo delle misure che, visto il nome, sembrerebbero del tutto condivisibili. Disposizioni in materia di trasparenza e di controllo dei prezzi di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, tra cui c'è il famoso obbligo di esporre il prezzo medio regionale dei carburanti e nazionale per le autostrade. Al di fuori delle autostrade sono soltanto il prezzo medio regionale. Se si dovesse spiegare a qualcuno qual è la genesi di questo provvedimento, perché a gennaio dell'anno di Grazia 2023 il governo ha deciso che fosse necessario da qui in poi, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, nei prossimi decenni, esporre il prezzo medio dei carburanti in tutte le 22.000 stazioni di servizio di rifornimento italiane, quale fatto, quale evento abbia determinato questa decisione, quale sia stata l'imperfezione di mercato per cui era necessario intervenire in questo modo. Io credo sarebbe piuttosto difficile spiegare in maniera razionale a cosa è dovuto questo provvedimento. Allora, riavvolgiamo il nastro, l'hanno già detto alcuni dei miei colleghi, ma lo faccio anche io, riavvolgiamo il nastro e andiamo all'inizio del 2023. Sparisce lo sconto sulle accise dell'introdotto dal governo Draghi. I prezzi naturalmente dei carburanti aumentano e famiglie e imprese se ne lamentano. Il governo, invece di difendere come avrebbe dovuto la misura presa in maniera coraggiosa, poteva dire che questo non è un provvedimento necessario, che cosa succede? Si agita la questione, si apre la questione della speculazione. La speculazione come se l'aumento dei prezzi dei carburanti fosse dovuto a qualche forza occulta. Si usano la parola speculazione come una cortina fumogena per mascherare una decisione che poteva sembrare piuttosto impopolare. E se la colpa è della speculazione, allora ci vuole un provvedimento contro gli speculatori questo decreto. Ora, ormai chiaro, è stato acclarato da tutti, che l'aumento dei prezzi dei carburanti che c'è stato a gennaio, è interamente spiegato dall'aumento delle accise, in parte minore anche un po' dall'aumento dei prezzi internazionali del petrolio in quel momento. Quindi non c'entra proprio niente la speculazione. Fra l'altro l'attenzione dell'opinione pubblica adesso si è completamente spostata dal tema della speculazione. Questo provvedimento appare ancora più paradossale in questo momento rispetto a quello di cui si parlava due mesi fa. E' certo, questo fatto che non si parla più di speculazione, non è certo dovuto all'esposizione dei cartelli con il prezzo medio dei carburanti, perché questo non è ancora avvenuto in attesa di un decreto ministeriale con le modalità di esposizione del prezzo dei carburanti che noi attendiamo con grande attenzione perché immagino sarà un capolavoro di burocratese. Figuriamoci le modalità con cui questo cartello deve essere esposto. Ora, al di là della genesi di questo provvedimento, ci dobbiamo chiedere se è un provvedimento utile per aumentare la concorrenza nel settore della vendita dei carburanti. Ora, gli esperti dicono di no e anche il buonsenso direbbe che non è molto utile. Però, rimanendo agli esperti, voglio ricordare che il Presidente dell'autorità di garanzia dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, ci dice che la misura non è utile per almeno due motivi. Prima di tutto, il prezzo medio regionale non è una cosa molto rilevante in termini di concorrenza quando si parla di concorrenza tra stazioni di servizio. Uno va a far benzina a pochi chilometri di distanza, non va a far benzina a un'ora di macchina di distanza. Un conto è fare il prezzo dei carburanti nella provincia di Mantua, un altro conto è il prezzo dei carburanti nella provincia di Sondrio, non si tratta della stessa cosa. Quindi è un'informazione piuttosto irrelevante andare a guardare la media dei prezzi regionali. Il secondo motivo che è notato dal garante della concorrenza è che addirittura l'esposizione di un prezzo medio può addirittura ridurre la concorrenza perché può facilitare accordi collusivi. In altri termini, perché vendere a un prezzo al di sotto del prezzo medio? Meglio adeguarsi a quello che fa la media. Ricordiamo che la variabilità dei prezzi in termini dinamici è un elemento fondamentale della concorrenza e questo elemento viene eliminato. L'altra cosa che mi domando è perché si è parlato di speculazione e mancanza di concorrenza per un settore come quello, in particolare, dei benzinai. Perché non si chiede allora di esporre il prezzo medio del latte, il prezzo medio del pane, il prezzo medio del taglio di capelli, per esempio? Anche lì si può pensare che ci sia un problema di concorrenza insufficiente. Uno può dire che forse nel settore dei benzinai ci sono dei limiti nella concorrenza. Per esempio c'è un sistema di concessioni che riduce la concorrenza. Guardate, le concessioni sono state eliminate nel 1998 nel settore dei benzinai, delle pompe di benzina. Quindi non c'è un problema. Ma allora uno dice perché non chiedere ad altri settori dove ci sono ancora le concessioni, perché non chiedere ai balneari di esporre il prezzo degli ombrelloni, per esempio? Forse che i benzinai sono cattivi e i balneari sono buoni? Sono domande che ci dobbiamo porre. Il risultato di tutto questo è che avete creato, avete messo, avete impiantato nuovi tasselli nel mosaico della burocrazia italiana. Faccio qualche esempio. Primo, i benzinai da qui in avanti per sempre dovranno esporre questi cartelli con i prezzi midi regionali, e cambiarli subito, cambiarli prontamente quando cambia il prezzo regionale, altrimenti sono sottoposti a delle multe anche pesanti. In un settore, fra l'altro, aumentando i costi, in un settore dove i margini sono già estremamente bassi, stiamo parlando di un settore in cui i margini di profitto per immenzinare il dettaglio sono già estremamente bassi. La guardia di finanza, che cosa dovrò fare? La guardia di finanza dovrà andare a controllare i cartelli per assicurarsi che non ci siano problemi di esposizione, dovrà farlo naturalmente, come dice il decreto, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, il che vorrà dire che la guardia di finanza dovrà farlo con le risorse che ha attualmente, il che vorrà dire che dovrà sottrarre risorse alla lotta all'evasione fiscale per andare a controllare i prezzi che siano esposti, i prezzi medi dei carburanti. Ma il governo, immagino, evidentemente al governo non interessa molto la questione dell'evasione, non è una priorità, ma di questo in qualche modo non c'è niente nuovo, già lo sapevamo guardando quello che c'è, o meglio, quello che non c'era nella legge di bilancio. Viene istituita una nuova commissione di allerta rapida di sorveglianza sui prezzi, con la solita lista di funzionari pubblici che ne fanno parte, il garante per la sorveglianza dei prezzi dovrà preparare una relazione trimestrale sull'andamento medio dei prezzi di carburanti, mi domando quanti di noi, quanti di voi la leggeranno e quanti del pubblico leggeranno questa relazione, si dovranno allineare le iscrizioni tra l'anagrafe degli impianti e quelle iscritte e le stazioni iscritte all'osservatorio sui prezzi, cosa peraltro lodevole, ma uno si chiede perché mantenere due banche dati identiche. Questi sono soltanto alcuni degli esempi, tutto questo però dimostra una cosa fondamentale, cioè la mancata comprensione di un punto fondamentale, si combatte la speculazione con maggiore concorrenza, con maggiore apertura dei mercati in tutti i settori, non con commissioni di sorveglianza, rapporti trimestrali e altre amenità burocratiche. Grazie.